Leonardo Romeo, prima esperienza live ma anche la prima esperienza agli height stakes. Come ti sembra questa nuova esperienza? È un'esperienza bellissima. Diciamo che non ho fatto una buona scelta del tavolo come prima esperienza live perché sono tutti giocatori di fama nazionale e anche oltre. Però speriamo di difendere e vediamo cosa succede. Qual è il giocatore che ti spaventa di più? Ma spaventare non lo so, spaventare un giocatore di poker che si spaventa già parte male. Diciamo che ho rispetto di tutti, questo sicuro, però spaventare, spaventare no. Allora non ero qui. Sei un buon giocatore online? Ma diciamo che me la gioco. Sono gli altri a dire che se sono bravo o meno, comunque diciamo che mi sento buono. Che limite ti sei imposto? In che senso? Di gioco, come quantità di danaro? Cioè hai deciso, ti sei dato una soglia massima o una durata di tempo? Insomma, qual è? Spero di giocare fino alla fine. Non ho una soglia ben definita. Ho una soglia per la vittoria, diciamo 100k mi possono anche bastare. Naturalmente è scherzo, però non ho posto limiti alla ipotetica perdita che speriamo che non accadrà. Buona partita. Grazie, grazie.